eccoci nella gilda dei guerrieri di brevi ho ideato un incantesimo che li ucciderà tutti molto divertente per precauzione però all'incantesimo ho anche aggiunto uno scudo perchè purtroppo non si sa mai anche toglietevi le armi adesso vi dirò di che incantesimo si tratta si tratta di un incantesimo molto molto divertente formato da raduna frenesia e ho aggiunto occhio scudo chiaramente svestitevi ho una veste da monaco e nient'altro non si sa mai cosa potrebbe accadere beh, visto che è ad aria la butto a terra ok inizia il divertimento oh che bello si stanno uccidendo tutti mi tiro indietro eh, guardate non c'è nessuna ripeto, nessuna taglia su di me taglia a zero taglia a zero e si uccidono tutti quanti è finito l'effetto dura soltanto qualche secondo purtroppo la magia è questa vedete mi stanno attaccando questi due e per questo ho messo uno scudo cento per cento purtroppo non posso rispondere all'attacco verrei incriminato di qualcosa venendo inchiuso dalle guardie finito con un oltre l'effetto beh, intanto c'è da dire che potete ricavarvi qualche armatura buona, no? oh, sono entrata anche in gioco le guardie, guardate oh, sperisco a passare oh, non riesco proprio a passare se riuscite a vedere siamo entromassi lì dietro le guardie ecco le guardie ecco le guardie uh, tutta Breville qui a guardare il nostro casino oh, ciao brutto oh, mi dispiace no, no vedete? intanto questo qua ad esempio è morto e possiamo tirar via un mattello di ferro corazzo eccetera se siete non esperti ovviamente ma sappiate che per questo incantismo ho messo tutto a 100 vuol dire che mi serve una grande abilità di illusione per raduna, frenesia e scudo vedete? la mia salute è a completo è quasi a completo mi hanno fracassato beh, la lotta continua qua eh, a quanto pare ah, non c'è più bisogno del mio incantismo credo tanto ci sono le guardie che sono entrate in azione uh, uh aspetta oh, no, 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 no aspetta, aspetta, aspetta è andata uno beh come vedete sono tutti morti tutti morti tutti, tutti divertente, no? frenesia raduna e scudo grazie a tutti Grazie a tutti.